ciao rita per aiutarti nella scelta della tenda più adatta per la tua casa devo farti delle domande quale sarà la sua funzione principale deve riparare dal sole una terrazza o un balcone oppure ombreggiare le finestre di una stanza o magari deve proteggere dal vento e dal freddo il tuo portico te le faccio perché a seconda della tua esigenza c'è un prodotto gibus più adatto per esempio se vuoi proteggere dal sole un patio o una terrazza ti consiglio di scegliere una tenda bracci se invece vuoi raffrescare una stanza ti suggerisco una tenda accaduta con tessuto oscurante o ombreggiante meglio se con un g tot basso perché sono i tessuti che schermano meglio dal sole questo ti aiuterà a ridurre le spese energetiche e mantenere più fresco l'ambiente se invece la tua esigenza è proteggere dal freddo dal vento un terrazzino un portico senza rinunciare al panorama circostante ti consiglio la schermatura zip con tessuto trasparente crystal che è una tenda accaduta con in più nelle guide questa tecnologia che abbiamo chiamato zip e che assicura la migliore stabilità del tessuto e resistenza al vento puoi vedere questi e tutti gli altri nostri modelli nella sezione prodotti di questo sito